Bentornato e benvenuto sul mio canale, oggi parliamo dell'arma più forte di Wayfinder un'assa mazze o meglio un'assa spade che solo guardarlo fa i danni in questo video ti farò vedere dove devi recarti per costruirla quali elementi ci vogliono per costruire quest'arma pazzesca e naturalmente anche un piccolo bonus ma ora basta perderci in chiacchiere, lanciamoci subito in questo nuovo video su Wayfinder ed ecco a voi in tutto il suo splendore la forma di flagello del titano questo spadone a due mani del fuoco che ricorda anche un po' le lame del caos di Kratos ma in questa versione abbiamo solamente un enorme spadone di fuoco e magma pulsante che ci portiamo dietro devo dire che a livello di skin e anche di effetti non è per niente male ma ora vediamo dove dobbiamo andare per poter costruire questa splendida arma che fa davvero un ottimo DPS per prima cosa dobbiamo recarci in via del mercato dove troveremo la nostra fabbro Arsenal qui parlando con lei e selezionando creazione arma potremmo trovare questo incredibile spadone a due mani come vedete richiede sì oro ma anche quattro differenti elementi analizziamoli insieme e scopriamo dove poterli trovare il primo spettri instabili incontaminati si trovano nella sezione quasi finale del gioco in qualsiasi mappa che avvieremo con un modificatore del caos otterremo questi frammenti il secondo materiale di cui avremo bisogno sarà il gettone del truffatore il truffatore non è altro che un NPC che troveremo all'interno di alcuni dungeon e ci darà l'occasione di poter aprire dei forzieri naturalmente per aprire questi forzieri dovremo anche avere la chiave del truffatore e questo sì è uno di quegli elementi da ottenere davvero molto molto difficile perché tutto si baserà sulla nostra fortuna qui invece abbiamo la corteccia ottica questo elemento potremmo trovarlo verso la fine del gioco nell'ultima boss fight che avremo naturalmente come i precedenti questo pezzo non è garantito alla sconfitta del boss ma avremo una possibilità di poterlo trovare naturalmente questo boss non è tra i più semplici e ben presto troverai un video che ti spiegherà come affrontarlo naturalmente cosa devo aggiungere premi la campanella per attivare le notifiche e sapere quando uscirà questo video in particolare e naturalmente iscriviti e lascia un like se questo video ti è piaciuto ma ora continuiamo con gli oggetti che servono alla costruzione di questo spadone l'ultimo elemento saltando naturalmente i gold saranno gli spettri calcificati un reagente che potremmo trovare in tutti i dungeon e quindi facile da farmare come avrai ben capito quest'arma non è facilissima da costruire dopo tutto è l'arma al momento più potente del gioco i pezzi che richiede a parte già cercare tante tante chiavi del truffatore sono gli ultimi pezzi che possiamo ricavare solo al momento dall'ultimo boss presente all'interno del mondo di wayfinder però ti do una buona notizia se vuoi saltare tutta questa parte riguardante trova le chiavi trova gli scrigni farma il boss finale o meglio arriva prima al boss finale e poi farmalo 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 beh puoi trovare tranquillamente questa arma nel negozio naturalmente per poterla acquistare ci vorrà la valuta di gioco quella che compriamo normalmente con i nostri soldi naturalmente se hai già preso un pacchetto fondatore avrai già della valuta di gioco e quindi sta a te scegliere se acquistarla o meno qualora invece stai aspettando il rilascio di wayfinder gratuito beh anche lì sta a te decidere se acquistare quest'arma o meno da quanto mio posso dirti questo di recente wayfinder non solo ha dato un piccolo rimborso o comunque un piccolo regalo a tutti coloro che hanno comprato un pacchetto fondatore ma ha anche ridotto il prezzo di quest'arma e quindi rendendola facile all'acquisto per tutti e sì se ti stai chiedendo se quest'arma verrà quindi nerfata e depotenziata beh chi vivrà vedrà e che dirti di più da danni t o cinghiale di ferro è tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao